Vivere il periodo che precede la Pasqua a Castellaneta significa assistere ogni anno al ritorno di quelle tradizioni che caratterizzano l'identità stessa del nostro paese, delle sue chiese e dei vicoli del centro storico. Vicoli in cui l'arrivo del periodo quaresimale è coinciso con la riscoperta di un'antica tradizione legata ad una Castellaneta di svariati decenni fa. E allora incontriamo colui che ha riportato questa antica tradizione a Castellaneta, Vincenzo Scaliggine che è il priore della confraternita del Santissimo Sacramento che insieme agli altri ragazzi ha appunto riportato queste sette bambole della quaresima chiamate anche quarantene. Vincenzo buongiorno innanzitutto. Buongiorno. A cosa servivano queste bambole? Erano per un antico calendario, diciamo per la gente un po' più ignorante all'epoca, per scandire il tempo della quaresima. Ogni domenica rappresentava, ogni bambo rappresentava una domenica di quaresima. Questa tradizione è stata abbandonata da un po' di anni? È stata persa intorno agli anni cinquanti, infatti era un ricordo di mia nonna. La buonanime di mia nonna non ricordava i nomi dei figli, però sapeva perfettamente i nomi delle sette bambole. Poi con i ragazzi e la confraternita, circa dieci anni, abbiamo ripreso questa antica tradizione dando loro anche un significato religioso. Anche perché all'inizio poteva sembrare come un'accusa un po' pagana, però ogni nome, anche se c'è il significato dialettale, c'è anche il significato religioso. Esatto, come potete vedere sotto ogni bambola c'è appunto il nome corrispondente che ha un significato. Allora spieghiamolo. La prima bambola? Allora, la prima bambola è Iene, sarebbe Sant'Anna, la mamma della Madonna. Poi c'è Paien, sarebbe la seconda domenica di Pasqua, che ricorda pagano il carnevale già trascorso. C'è Roberto, Susanna, che sarebbe Susanna, che rappresenta nei testi sacri Susanna, che è il simbolo dell'innocenza, perché accusata ingiustamente di adulterio, fu salvata la profeta Daniele. Poi c'è Lazzaro, che è l'unico maschio che ricorda il miracolo di Lazzaro, il miracolo della resurrezione. Poi c'è Palma, che sarebbe la domenica delle palme, il simbolo della pace, e Sant'Anna, che sarebbe la Santa Pasqua, e rappresenta il candure e la vince di Gesù sulla morte. Infatti l'ultima bambola, Sant'Anna, la Santa Pasqua, è quella che viene più arricchita con il più particolare, perché non viene tolta la domenica di Pasqua, ma la domenica successiva, la domenica in Albis. Allora Vincenzo, la prima domenica ormai è trascorsa? Sì, infatti adesso viene tolta la prima bambola, Iene, quindi siamo già nella seconda, la prossima domenica sarà Pa Iene, e lunedì successivo toglierremo l'altra bambola. Con questa prima tradizione ha ufficialmente inizio il periodo quaresimale a Castellaneta, che si concluderà poi con, avrà il suo culmine con la processione dei misteri. La confraternita è sempre stata attivamente impegnata e c'è una novità quest'anno? Sì, la confraternita è sempre stata impegnata nel corso degli anni. Da quest'anno, insieme con la Proluco e l'associazione Gabriele Semeraro, il concerto della Passione avrà un altro, nel suo interno ci sarà un altro impegno, che è quello del premio Spina di Cresto, che verrà consegnato dalla Proluco a chi si è distinto nel sociale per i più deboli, i più poveri. Inoltre, durante il concerto ci sarà, come sempre, l'esecuzione dell'inno funebre con alcuni cenni storici e cantato dalle donne del gruppo della Dolorata.